. L'Isola dei Famosi, l'eliminato del 20 marzo, ecco chi ha lasciato il reality. Riassunto l'Isola dei Famosi 2018 del 20 marzo, ecco chi è stato eliminato dal gioco. Ieri sera è andata in onda la nona puntata del cancelletto Isola dei Famosi 2018 su Canale 5. Il riassunto di questo nuovo appuntamento rivela che anche questa volta ci sono stati grandi colpi di scena e soprattutto cè stata l'eliminazione di un altro dei concorrenti in gara. I tre candidati all'eliminazione di questa settimana erano Marco Ferri, Jonathan e Simone Barbato. Come sempre a decidere il nome del concorrente da mandare a casa è stato il pubblico da casa attraverso il Televoto. Ecco chi è stato eliminato dall'Isola dei Famosi del 20 marzo. Ebbene il verdetto finale del pubblico di questa settimana del cancelletto Isola dei Famosi ha stabilito che l'eliminato fosse il modello Marco Ferri, che ha dovuto abbandonare il gioco e la gara. Tuttavia Marco non sapeva che sarebbe stato portato sull'isola segreta dove si trovano Rosa perrote ed Elena Morali. A quel punto Alessia Marcuzzi ha chiesto a Marco Ferri se avesse intenzione di accettare la sfida ma il naufrago si è rifiutato e ha scelto di tornare a casa definitivamente senza andare contro il verdetto del pubblico sovrano che lo ha eliminato nella sfida contro Jonathan e Simone. Nel corso di questo nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alessia Marcuzzi abbiamo visto anche che c'è stato l'arrivo in spiaggia di Valeria Marini. La showgirl è tornata di nuovo in Honduras nelle vesti di quest star del programma di Canale 5 dopo che già in passato ha preso parte alla trasmissione come concorrente ufficiale. Giucas Casella ritornerà all'isola dei Famosi?. Immediato lo scontro con Francesca Cipriani, le due si sono sfidate in una prova che per poco non stava per sfociare in una sorta di combattimento fisico in Honduras. Riusciranno a trovare un modo per andare d'accordo durante questa settimana di convivenza forzata in Honduras? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore. Occhi puntati anche su Giucas Casella, che ieri sera ha chiesto la parola alla conduttrice dell'Isola dei Famosi per mostrarle il documento medico che attesa ufficialmente che è guarito dal malore che lo aveva colpito in Honduras. Proprio per questo motivo Giucas Casella ha chiesto alla Marcuzzi di poter ritornare di nuovo in Honduras e di proseguire il suo percorso sull'Isola. La conduttrice non gli ha potuto dare una risposta immediata ma gli ha promesso che ne avrebbe parlato con la produzione e preso una decisione. Sarà accontentato oppure no? Cancelletto Isola dei Famosi. La conduttrice non è la conduta migliore della conduttrice non è la conduttrice non è la conduttrice di P.M.